Vendere corsi di produzione musicale. Oggi leggo la domanda di Andrea che chiede Ciao Massimo, volevo chiederti, ho ben chiaro l'elemento differenziante del mio prodotto, un videocorso online, sulla produzione musicale. Però mi chiedevo, come posso capire se effettivamente ci sono tante persone interessate a questo mio modo di produrre? Posso fare dei test sulle ads? Sprecherei molti soldi immagino però. Grazie mille Andrea. Allora Andrea, qui ci sono un paio di elementi da analizzare sicuramente. E il primo tra tutti tu scrivi, ho ben chiaro l'elemento differenziante del mio prodotto, tra parentesi un videocorso online. Ora non so se l'elemento differenziante è il videocorso online perché quello non è l'elemento differenziante ma quello è semplicemente come impacchettato il prodotto. Quindi diciamo il prodotto stesso non è l'elemento differenziante ma spero non sia quello. Quindi, ok, è l'elemento differenziante, benissimo. Domanda numero uno, chi sono le persone che hanno bisogno del tuo prodotto? Facciamo un passo indietro, prendiamo il tuo prodotto, quello che insegni, quindi un corso sulla produzione musicale senza il tuo elemento differenziante. Ci saranno alcune persone che sono interessate a questo tipo di prodotto e poi esiste il tuo elemento differenziante. E ci saranno alcune persone che saranno più in target, quindi avranno più bisogno, preferiranno questo tuo elemento differenziante rispetto a un corso normalissimo. Ora, quali sono queste persone? Dove sono? Questa è la domanda che devi farti, punto numero uno. Punto numero due, quindi dove sono queste persone? Esistono dei gruppi Facebook ad esempio frequentati o dei forum, oramai i forum non vanno più, però immaginiamo qualche gruppo Facebook. Fai una ricerca, trova le persone appassionate di produzione musicale, quindi persone che potrebbero essere interessate ad acquistare il tuo corso. Partecipa e inizia a parlare del tuo metodo diverso di lavoro e vedi se effettivamente c'è un pochino di domanda. Questo è il primo modo a costo zero che puoi utilizzare. L'altro metodo, assolutamente sì, quello dell'Ad, è una cosa che devi fare, io ti consiglio. È vero, spendi qualche soldo ma ti risparmi tantissimo lavoro, nel senso che puoi iniziare a creare una landing page, quindi con il metodo Lean, cosa che ti consiglio di fare, puoi studiarti il libro dell'In Startup o Partire Leggeri, in italiano, di Eric Reis, che parla proprio di questo metodo. O più o meno per la stessa cifra c'è il mio corso Business Starter che analizzo più o meno questo in video, in un'oretta, più o meno riesci a capire tutta la logica. Quindi puoi creare una pagina online, in gergo si chiama landing page, quindi una pagina in cui le persone arrivano, leggono la descrizione del tuo corso e puoi farti lasciare i dati per avere maggiori informazioni su quando il prodotto verrà lanciato. Questo è un metodo, quindi per iniziare a guardare effettivamente se c'è interesse. Questo è il primo passo, quindi inizia a raccogliere potenziali clienti. Il problema è che tu ancora non saprai se nel momento che andrai a vendere questo corso le persone lo acquisteranno oppure no, perché c'è caso che le persone dimostrano interesse, magari fai mille iscritti e poi nessuno compra nel momento che lanci il prodotto e questo inizia a essere problematico. Il mio consiglio in questo caso è di procedere per step e di fare una sorta di preordine, quindi raccogli la lista, crei tutto il percorso del programma e fai una sorta di prelancio. Quindi le persone possono acquistare in anticipo prima il prodotto ad un prezzo speciale e le avvisi che dalla settimana successiva, ad esempio, inizia a produrre i corsi e ogni settimana gli sbloccherai un contenuto e loro avranno un prezzo incredibilmente conveniente. Questo può essere un primo passo interessante per capire se effettivamente dall'interesse le persone sono anche disposte ad aprire il portafoglio. Però riguardo alla domanda su spenderei un sacco di soldi immagino, snì, nel senso che con, non voglio dire qualche decina di euro, ma qualche centinaia di euro già riesci a capire effettivamente se c'è domanda, se è richiesto oppure no. Esiste un altro metodo che spiego nel mio corso che nel breve è questo. Vendi il prodotto senza ancora averlo. Quindi tu fai tutta la tua pagina di vendita, ma delle persone ad acquistare il prodotto nel momento che acquistano praticamente li rimborsi. Fai un breve test e se vedi che arrivano subito 5, 6 acquisti, 7, 8, 10, vedi tu quanto ritieni un numero tutto sommato veritiero, a quel punto fermi le campagne, sviluppi il corso, lo crei e lo metti in vendita per davvero. Questo può essere un altro metodo alternativo per cercare di capire se c'è domanda oppure no. E ovviamente questa strategia è applicabile per qualunque tipo di corso online, per cui sono strategie che sono applicabili bene o male in qualunque settore. Se avete altri consigli, altre strategie e vi va di condividerle, fatelo nei commenti di questo video. Altrimenti per oggi è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, il mio corso Business Starter lo consiglio a chiunque abbia intenzione di avviare un nuovo business, una nuova attività perché si concentra proprio su questo, ovvero sul testare un mercato, quindi la risposta di un mercato senza sviluppare il prodotto, quindi senza fare grossi investimenti, ma cercando prima di capire la risposta, quindi con metodi diciamo un pochino più alternativi rispetto al vecchio metodo, produco un prodotto e poi lo vendo e solamente in caso di risposta affermativa del mercato iniziare a svilupparlo. Con questo è tutto, ricordatevi di scrivere le mie pillole di business sul sito pilloledibusiness.com per ricevere tutte le mattine alle 7 la mia mail riguardante marketing business, in alcuni casi crescita personale, chiedete ad Alexa di aprire il marketing strategico oppure cercate la skill pillole di business, cercate il mio podcast, seguitemi su tutti i social, sono ovunque, fate iscrivere i vostri amici, consigliatemi, con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao!